Il grande caldo non frena la preparazione del pineto calcio al Druda in vista del prossimo campionato di Lega Pro. Molto lavoro fisico e basi di tattica per i biancazzurri, con il neo arrivato difensore Exempoli Nicolò Evangelisti che si sta ambientando con il gruppo squadra e i metodi d'allenamento di mister Amaolo. È un gruppo ragazzi fantastici, mi sono trovato molto bene con il gruppo. Alcuni ragazzi già li conoscevo perché ci ho giocato contro appunto quest'anno nel Giro NEC, il preparatore, l'allenatore, mi sono trovato molto bene, ci dobbiamo conoscere ancora, è normale. Sono i primi giorni, però mi sono trovato molto bene. Stiamo lavorando molto dal punto di vista fisico e tatticamente ancora siamo alle basi, giustamente per i primi giorni, però il caldo, come tutte le squadre che stanno iniziando in questo periodo, è normale, dobbiamo conviverci e allenarci sempre al 100%. No, a livello tattico con tutti i ragazzi, ancora è presto poi le scelte le farà il mister, ma sono molto felice, è importante adesso fare gruppo e poi prepararci bene per l'inizio del campionato.